Clause l'ho messa a cento appunto perché è una clausola molto elevata e per il momento nessuno si è fatto vivo e quindi sono ben contento che lui sia con noi e spero che tutto questo continui. Ci parleremo perché comunque è importante sentire anche da lui diciamo cosa ne pensa non del fatto che chiaramente è molto importante che lui rimanga contento come io mi auguro che sia nel momento in cui appunto rimanga con noi però ecco non ho più parlato con lui di questo. Cercavamo di trovare il modo per prendere anche appunto Andrea però poi lì Zamparini se la tirava un po' come si può dire chiedeva a chi frega? Non andiamo oltre non andiamo in doppia cifra. Mi ricordo che quando stavo sono stato qualche giorno in vacanza all'isola d'Elba no? E quando stavo ritornando dall'Elba ricevo un messaggio da Zamparini che mi dice perché la trattativa è stata fatta prevalentemente con messaggi sms o telefonate che duravano uno due tre minuti massimo no? Cioè proprio robe Zamparini è telegrafico io anche lo ero ma perché vedevo che c'era poco da purtroppo lì era 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 durissimo lui no? Allora mi manda un messaggino diceva allora io se lo vuoi sono disponibile era mi pare il 16 agosto sì se lo vuoi sono disponibile però non tirare non trattare perché se no non te lo do dico guarda lo chiamo dico guarda Maurizio aspetta con quello che ti ho dato in passato gli ho ricordato tutti gli acquisti che ho fatto con tutto il bene che vogliamo ai giocatori del passato però insomma qualche acquisto poi non è come ricordate non fu proprio brillantissimo dico con quel che ti ho dato ti avevo dato almeno 10 milioni ma dico ti sto chiedendo uno sconticino che poi ti metto bonus legati a gol eccetera assolutamente no perché lui è ancora lì che pochino no? Dico ma come tu che hai venduto Darmian a 18 milioni più bonus e io te l'ho venduto la metà a un milione e mezzo ma cosa vuoi da me? Ma vai via ma vabbè dico dai va bene ho capito ho capito che non c'è che sei rimovibile a questo punto facciamo i moduli mandami tutto quanto firmato eccetera eccetera e così abbiamo fatto ma sui velotti ci sono novità? No velotti a scadenza potrebbe aver già firmato con qualcuno ma cosa dirà domani che questa è una squadra da scudetto che la colpa è di altri invece la colpa è sua e l'unico responsabile è il tuo amico Cairo vabbè chiediamo poi ne parliamo ciao